Io sono il più grosso e sono il vero Hulk Ma vai a cagare per cortesia che costi un euro alle bancarine del cazzo Guarda io invece sottipiedi ho addirittura la piattaforma con il logo Marvel Oh quanti cazzi la piattaforma con il logo Marvel Ragazzi 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 non litigate State calmi Non fate come il pinguino della Kenner Che voleva primeggiare a tutti i costi contro il pinguino della Toy Biz Bomba Vabbè lo so fare anch'io Uno a uno Già Mamma Papà Perdonatemi Beh almeno qualcosa di utile è venuta fuori Già 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 Grazie a tutti